E' Salernitana mania, i tifosi sentono il traguardo della Serie B nuovamente vicino, finalmente alla portata e basta un post su Facebook per infiammarli. I brasiliani giocherelloni si divertono, sono maestri nel flirt. L'ultimo messaggio l'ha inviato Gabbionetta, il suo Avanti Granata pubblicato in Bacheca ha fatto il pieno di consensi. Salerno è nel pallone, vuole svoltare insieme ai propri Beniamini. Non siamo ancora in presenza del contagio da derby che ha portato allo stadio 21.000 persone per la sfida al Benevento, ma contro il Matera i tifosi della Salernitana si preparano ugualmente ad alzare il muro imponente. Si stimano infatti almeno 12.000 persone allo stadio. La prevendita procede a gonfie vele. Oltre 3.000 biglietti venduti. Il botto è atteso oggi con il weekend alle porte e a domenica mattina da trascorrere tra sospiri in recebitoria e gufate davanti la TV perché scenderà in campo il Benevento. Al dato dei paganti bisognerà aggiungere quello degli abbonati 2.500 che stavolta hanno già il voucher in tasca perché non c'è giornata granata.